ciao a tutti allora come promesso facciamo un'apertura di figurine visto che c'è stata una grande richiesta qui abbiamo un po di pacchetti da spacchettare e da vedere insieme vediamo quali giocatori quali figurine vengono fuori quest'anno ok allora iniziamo ad aprire qualcuna e vittoria viene alla mano mi aiuta e vediamo spacchettando spacchettando che cosa viene fuori allora qui abbiamo cristian ansaldi del toro milic attualmente infortunato di napoli manolas difensore della roma poi abbiamo qualche giocatore del frosinone e poi i nuovi acquisti del milano tra cui bonucci che ha spostato gli equilibri qua che cosa hai tu invece allora vediamo un attimo del crottone simi poi de maio bologna che sfortuna nel senso che non abbiamo probabilmente vinto niente poi della fiorentina l'origno allora vediamo un po se riusciamo tu chi vorresti trovare vittorio vorresti trovare qua con l'alimentus per esempio Milan Antonelli poi Vicari della SPAL Danilo che proprio ieri ha fatto un autogol udinese e poi Alessandro Matria attaccante del Sassuolo poi abbiamo Simone Inzaghi il mister della Lazio poi Scudetti del Bari e Brescia Marco Silvestri dell'Ellas Verona e Mario Mazzucchici questo qua chi lo tiene? e poi tu lo tieni eh vabbè mi tiro qua Scudetti della Serie A e poi abbiamo del Parma 3 giocatore vai altro pacchetto Antonio Mirante portiere del Bologna dalle giovanili della Juventus Nicola Svigliola Benevento abbiamo Bruno Peres della Roma poi Badeli della Fiorentina poi tu mi passi Petkovic del Bologna poi che sfortuna che sfortuna qua abbiamo vinto una bustina attenzione hai vinto abbiamo vinto una bustina falla vedere tac che sfortuna ho vinto una busta poi Matos dell'Udiese e questi tre del Venezia poi la squadra gran completo della Fiorentina e poi Provercelli e abbiamo dell'Empoli tre giocatori dell'Empoli Serie B apri vai apri che tu hai la Marina Fortunata attenzione no ce l'ho mamma vieni a vedere un po' cosa ho trovato allora il mister Fabio Pecchia del Verona poi chi hai? l'Ascoli tre giocatori dell'Ascoli vediamo qua nel dettaglio poi della Zappeduria Strinic Zappeduria difensore della Zappe poi Dusan Basta difensore della Lazio gol che sfortuna che sfortuna niente da fare poi abbiamo Faraoni del Crotone e qua chi hai? è la tua è l'uomo che risolve il centrocampo della Juve quest'anno poi abbiamo Cristian Maggio del Napoli e top player Zecco della Roma questo è il Zacchera poi che sfortuna e la Ternana e tre giocatori della Salernitana che sfortuna poi abbiamo questa figurina speciale dei fedelissimi della SPAL ti ho vinto ti ho vinto Allianz Stadium ti ho vinto ti ho vinto ex Juventus Stadium in occasione della presentazione dei giocatori ti ho vinto ti ho vinto ormai ci ho vinto poi abbiamo Gaetano Letizia del Benevento Crisetig del Bologna e Andrea Masiello Atalanta poi gol che sfortuna tac e ce lo abbiamo poi chi abbiamo Cristian Zapata del Milan mamma ti sto vincendo guarda sempre Milan Andrea Conti mi faccio vedere la mamma no mamma c'era questo poi abbiamo del Carpi tre giocatori e tre del Brescia e che hai fatto vedere la mamma per la sua gioia Andrei Gabinov attaccante di razza del Genoa del grande Genoa cos'è l'ultimo pacchetto no c'è un altro che è quello lì no c'è un altro vabbè lì apro io apri tu dai allora Skriniar dell'Inter poi intanto che giocatore gol che sfortuna sì poi abbiamo uh Alessandro che figo che figo che hai trovato nella Juve hai trovato tre buoni della Juve io due Sandro e e Mandzukic poi Parolo due una quella di Mandzukic l'ho presa da te sì poi qua abbiamo lo stadio Atleti Azzurri d'Italia del Atalanta eh dove è questa l'Atalanta eh questo qua è il simo dell'Atalanta poi comunque San Paolo lo stadio del Napoli bisogna ripassare un po' allora questa qua è la maglia della Roma figurina speciale con la maglietta la casacca della Roma ok mi sembra che abbiamo finito la figurina eh Vittoria no no controlliamo scusate no non ce ne sono altre sì non ho visto un altro niente no vuole dire che faremo ne comprendiamo delle altre e faremo un altro video ve lo dici sì va bene salutiamo alla prossima e ne approfittiamo per augurare a tutti buon anno che è oggi il ritmo dell'anno ecco qua no non ce ne sono più ciao a tutti ciao ciao ciao